Alex è un mondo, non si direbbe, ma anche di relazioni, tante. Vi ho visto commuovervi con l'ingegnere Dall'Ara, raccontare delle storie che non tutti conoscono. Non è una giornata uguale all'altra sicuramente, ma questa idea delle relazioni umane, da come ti conosco, esce sempre. Credo che commuoversi sia normale nel momento in cui tutto quello che hai fatto è stato fatto per una passione fortissima e ti rendi conto che chi ti guarda ha capito quanto impegno, quanta dedizione, quanto piacere, quanta curiosità hai messo nella tua vita nel cercare di percorrere quella strada e quando ti senti vicino al traguardo finale, all'orizzonte che hai sempre inseguito, poter creare qualche cosa che davvero consente un po' di passare il testimone, ma da tanti punti di vista diversi, non soltanto quello tecnologico, come sta facendo appunto l'ingegnere. Con questa struttura, con quello che avrà dentro questa struttura, con quello che i ragazzi che studieranno, che avranno la possibilità di confrontarsi l'un l'altro, di imparare, di utilizzare questi nuovi strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, ecco, sarà un po' perpetuare per sempre questa grande tradizione che si è creata e consolidata in questo territorio così speciale, del quale evidentemente l'ingegnere è assolutamente visceralmente innamorato, perdutamente innamorato. Senti, l'architettura viene definita machine habité, macchina per abitare, no? Allora, ci interessa un tuo parere su questa architettura, ma in generale su quanto l'architettura oggi può diventare un punto di riferimento, un landmark, anche l'identità di un'azienda, no? È difficile per me dire qualche cosa di intelligente, visto che le persone mi giudicano e mi valutano come tale che in realtà... La tua idea sull'architetto? Io sono soltanto un uomo che nella vita ha fatto tante cose diverse, ha fatto tante esperienze diverse, ne ha viste tantissime, ecco, forse proprio in relazione a questo ti posso dare un giudizio che vale qualche cosa. Oggi vedo qualcosa che mi piace, quindi nonostante i miei miei occhi abbiano già scorto tante cose meravigliose fatte dall'uomo, che è un po', credo, il dono che ognuno di noi possiede quando ha la curiosità di scavare dentro la propria anima e comprendere che cosa vuole fare, soprattutto interrogarsi su che cosa deve essere. Qui ci sono delle macchine bellissime all'interno di un contenitore che le contiene in modo splendido e estremamente armonico, quindi questo è l'unico giudizio che posso esprimere, che però è di cuore, non di competenza, ma che spero valga qualcosa.